E arriva la passione del tango per gli amanti dei castelli, arriva sempre lui il nostro Maurizio, ricordo la Nadia, la passione, domenica notte, castello di Cuglio, castello, castello, Cuglio! Salutiamo il signor Lino, un grazie doveroso di essere qui con noi questa serata, Lino da Castellegotevo. Passo del tango ragazzi per tutti voi in questa serata meravigliosa, qui a Castellegotevo, l'orchestra Mauri Bumera. Passo del tango ragazzi per tutti voi in questa serata. Passo del tango ragazzi per tutti voi in questa serata. Il tango ragazzi. Passo del tango ragazzi. Un grande tango, mi raccomando ragazzi, un grande caschetto. Giovanotti pieghiamo le nostre donne, forza! Giovanotti pieghiamo le nostre donne, forza! Grazie! 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 Grazie!